Ciao ragazzi, ho avuto l'onore di essere invitato a Londra per giocare in anteprima a Doom insieme a Gabbo e Dread, poi all'evento c'erano tantissimi youtuber veramente di alto calibro come Aliei, Willyrex, Zlogman eccetera eccetera ragazzi questi qui sono le varie clip che sono riuscito a registrare vi ho messo un po' le parti migliore dei vari gameplay abbiamo utilizzato due mappe e due modalità ovvero un deathmatch a squadre e poi una postazione diciamo che poi vedrete successivamente appunto nelle varie clip Doom ragazzi è una cosa strepitosa questo nuovo gioco è veramente senza paragoni è stato giocato su pc quindi magari la qualità sarà superiore rispetto chi ha le console ed è veramente strepitoso ragazzi io mi divertivo tantissimo a diventare questo demone potentissimo che sparava missili di fatti quando c'era sempre le rune demoniache sapevano già che Beastard era il demone che ammazzava chiunque e veramente ragazzi ci si diverte in una maniera incredibile poi passando dai normali fps perché questo qui ragazzi è stato il padre possiamo dire di tutti i nuovi giochi fps che trovate sul mercato è stato uno dei primi se non il primo fps al mondo non abbiamo bisogno di ricaricare le armi quindi è veramente una cosa strepitosa per chi viene da code e da altri giochi che ogni colpo ricaricano subito è veramente una cosa epocale qua poi come vedete possiamo chiaramente personalizzarci completamente tutto il personaggio poi tutte le armi avevamo chiaramente molte cose bloccate quindi non potevamo vederle registrarle ragazzi però ha fatto il possibile qui ci troviamo invece nella seconda modalità che abbiamo provato ovvero King of the Hills la postazione appunto che c'è qua in Doom e sono sicurissimo che tutti quanti voi siete abituati alla postazione che c'è su code ovvero Fissa che ogni tot spawna in vari punti della mappa qua invece è sempre attiva e gira intorno a tutta la mappa quindi è veramente una cosa strepitosa veramente molto molto bella è impossibile da camperare e sono sicurissimo ragazzi che a tutti quanti voi possa piacere veramente in una maniera incredibile perché appunto ragazzi non si campera in Doom non è possibile camperare bisogna sempre girare ci sono scontri ravvicinati all'ennesima potenza vi trovate nemici faccia a faccia e qui adesso vedete che utilizzo dei fucili ragazzi d'assalto, arafica, adesso non mi ricordo benissimo come cavolo si chiamano però avendoci un attimo preso la mano dopo un po' tutti hanno incominciato ad utilizzare il fucile a canne mozza difatti nelle successive clip vedrete che tutti quanti lo utilizzano perché è overpower è veramente una cosa strepitosa e qui vedete appunto un po' la mappa com'è vi ho voluto lasciare un attimo di gameplay nudo e crudo possiamo dire e voglio sotto nei commenti che mi scriviate in quanti di voi hanno giocato a un Doom a qualsiasi Doom se ne eravate a conoscenza io veramente ragazzi lo aspettavo da tantissimo tempo l'ultimo Doom che ho giocato è stato al 2 se non ricordo male sempre su PC e la qualità ragazzi è estrema come vi ho già detto a inizio video qua guardate sempre con le persone con il demone ragazzi è veramente stra divertente farsi un gruppo andare online è veramente una cosa stupenda abbiamo visto poi soltanto due mappe qua vedete tutti coi cecchini qua boom massacrato cioè è veramente bello ragazzi uccidere le persone qua su Doom che esplodono in mille pezzi è fantastico e qua vedete appunto che c'è la runa demoniaca che gira appunto attorno e quando uno diventa questo demone potentissimo sotto ci sono i secondi 50 secondi che uno può restare sotto questa forma qui però si è potentissimo però se un paio di persone si mettono di impegno lo riescono a tirare giù in un attimo quindi è veramente bilanciato molto molto bilanciato ecco qui mi vedete subito con Ali A a massacrarlo poi anche lui mi è massacrato con il fucile a pallettoni qua guardate aspettavo l'arrivo della runa demoniaca arriva Dread e boom purtroppo non si sentono le nostre voci ragazzi però ci siamo veramente stra divertiti là c'era Gabbo anche boom è esploso anche lui e tutti gli altri cioè veramente ragazzi un giocone assurdo come classi io appunto vi consiglio quando uscirà il gioco ditemi se pensate di prenderlo o meno fucile a pallettoni assolutamente e RPG oppure un cecchino in base alla mappa questa invece è la seconda mappa che siamo riusciti a testare altre cose purtroppo chiaramente non ce le hanno fatte vedere ragazzi ed è veramente rivadisco stra divertente le armi sono abbastanza bilanciate il fatto di non ricaricare l'arma è una cosa incredibile per chi viene da altri giochi per chi è abituato da altri giochi le mappe come vi ho detto sono abbastanza a corto raggio ci si diverte moltissimo gli scontri sono veramente frenetici questa qui è un'altra arma veramente iperpotente con questa scarica elettrica dove si è ucciso Willy Rex e qui ragazzi dovrebbe esserci la clip dove si massacra appunto il demone poi quando viene ucciso in pratica rimane la runa e il primo che prende la runa ragazzi diventa di nuovo il demone poi qui ci sono queste mega uccisioni incredibili sparse poi in mezzo alla mappa ci sono delle armi c'è un'arma potentissima che avete visto a inizio video dove avevo distrutto il demone o un giocatore adesso non mi ricordo bene poi c'è l'invisibilità ragazzi per chi è familiare di Doom l'invisibilità è una cosa epocale perché vai dietro agli avversari e gli stacchi la testa qua doppietta con il fucile a canne mozzi come vi dicevo è una cosa incredibile e qui ragazzi la postazione è ottima da prendere qui scontri uno contro uno poi basta prendere la postazione e andarsene e qui ragazzi col fucile a pallettone si distrugge nuovamente il demone e io ragazzi mi divertivo tantissimo essere il demone ve l'ho già detto qui guardate uno poi si va dall'altro questo dovrebbe essere slogman boom e via gli si stacca la testa nuovamente qui idem a un knob player non lo so chi cavolo era via la testa anche di là il gameplay ragazzi sta per finire sempre con il demone demoniaco scrivetemi subito sotto giù nei commenti cosa ne pensate di questo mega giocone allucinante a me piace veramente tantissimo ragazzi e vi porterò veramente tanti tanti gameplay quindi qua da Bistar per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao